un particolare sta si alla luce proprio perché tutta l'azienda all'azienda all'azienda perché noi a torto ragione quest'anno facciamo i 50 anni e questa è una nuova vittoria angelo ai 50 anni nostri e questa è un qualcosa di importante per l'azienda che veramente merita noi da tanti anni stiamo abbiamo investito e ci stiamo sempre come protagonisti e questo è un riconoscimento che meritiamo veramente l'antipasto per la stagione, la coppa campione l'antipasto significa credere alle possibilità che abbiamo e questa è la... cominciavamo a barcollare negli anni passati nella logica di non riuscire a fare le finali averla fatta e vincere due partite straordinarie per noi è un qualcosa che ci deve dare consapevolezza grazie grazie